Leandro, cosa ha da chiedere la Lazio di questo Catania e cosa invece il Catania di questa Lazio? Loro hanno molti calciatori di molta qualità, di esperienza, stanno cercando di vincere, sono una squadra che in trafferta fa benissimo, ma noi in casa siamo forti e stiamo giocando un calcio benissimo. Ci sono dei punti, forse proprio in casa, che il Catania ha perso e che in questo momento forse mancano, sono più uno sprone anche per fare bene contro queste squadre che andrete a incontrare, che sono sulla carta più complicata, magari di partire come quella contro il Chievo, quella contro il Cagliari. Sì, sì, ma adesso siamo bene, abbiamo ottenuto risultati positivi e dobbiamo continuare così. Abbiamo visto in crescita in queste ultime partite, dopo un periodo un po' di appannamento, abbiamo visto male noi oppure effettivamente questo di adesso è il vero Gomez? No, no, sicuramente questo è il vero Gomez, è il di sempre, no? Ovviamente in un campionato lungo come questo, di 38 gare, è normale che qualcuna partita, due o tre, non si può fare al massimo livello, ma l'importante è cercare sempre di migliorare. In questa serie di partite il mister non ti ha mai risparmiato un minuto, è un motivo di felicità per te oppure comunque c'è anche un po' di stanchezza e quindi anche un po' di possibili appannamenti? No, no, io sempre voglio giocare, è lo che più felice mi fa, no? Il mister mi dà tanta fiducia e lo ringrazio tanto. Se posso un obiettivo, gol? No, no, sempre migliorare lo che ho fatto la stazione scorsa, no? Ho fatto quattro, mi piacerebbe fare, non so, sei, otto, speriamo arrivare.